Pompà, limite dell'area di rigore, destro di Pompà e la palla in rete a Juventus Cala Poker con Paul Pompà perché questo è un fenomeno, questo è un fenomeno, questo è un fenomeno al minuto numero 33, Juventus 4, Sampdoria 2 con la bomba da fuori aria di Paul Pompà Quadrato il fiero, attenzione, verso Pompà, Pompà, destro di Pompà e la palla in rete la Juventus in vantaggio con Paul Pompà al minuto numero 19, Juventus 1, corre lo 0, corre il missile di Paul Pompà Juventus ancora, Juventus 7, tentativo di tiro, Pompà e la palla in rete, la Juventus in vantaggio con Paul Pompà un gol straordinario al minuto numero 29, una voleva meravigliosa, è cambiato il punteggio a San Paolo Napoli 0, Juventus e la Juventus ha segnato il numero 6, Paul Pompà Paul Pompà 1 2 1 1 1 2 3 5 Grazie!